Stavo dicendo, grande partita, hai fatto fare un gol eccezionante e uno quasi quasi non vede niente. Come pensi di proseguire nel proseguimento del campionato? Bisogna solo lavorare e non abbassare la testa. Tanto il calcio è fatto di episodi e purtroppo abbiamo fatto il secondo gol e poi ci hanno ripreso 2 a 2, poi 3 a 2. E noi ormai la Coppa è andata, hanno vinto. Ora noi dobbiamo pensare solo a lavorare per le partite del campionato. Eh sì, tanto ci alleniamo tutti i giorni insieme, quindi so le caratteristiche dei miei compagni. Bisogna guardare e non fare gli stessi errori delle partite precedenti, quindi devo dare uno in più, non di meno. Quindi per me... Tutte e due, tutte e due. Sono delle persone molto brave, pure quando siamo sul campo mi aggiustano alcune cose. Vito vai. Dal punto di vista tattico, ti sei trovato meglio all'inizio, con i tre attaccanti oppure con il 4-2-3-1? Mi sono trovato bene con tutti e due moduli e il mister ha scelto di cambiare, conoscendo le caratteristiche di ogni giocatore sul campo. E siamo passati al 3-4-3-2, in questa fase 4-4-2, quindi sapeva che potevo fare l'esterno d'attacco, quindi mi ha messo là. Per me va bene che si sia punta centrale come esterno d'attacco. Per me bisogna solo lavorare su ogni posto che mi dà il mister. Me la prendo e provo di fare il mio meglio. Altre domande per Adam? Va bene, grazie ragazzi.